Un uomo a Cassibile viola e domiciliare sorpreso dai carabinieri finisce in cella a Cavadonna. Un mattenente a quattro anni che ha scontato il reato di furto commesso nel 2015 è stato sorpreso dai militari fuori dalla propria abitazione. I carabinieri della stazione di Cassibile hanno arrestato l'uomo del luogo in esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria Letusea. L'uomo stava scontando la pena in detenzione domiciliare per un furto commesso nel 2015. Le violazioni alle prescrizioni imposte e gli prontamente segnalate all'autorità giudiziaria hanno portato all'emissione del provvedimento con il quale il 34 anni è stato trasferito presso il carcere a Cavadonna di Siracusa.